Fornelli sì, Fornelli no. L'altalenanza dei Biancoverdi nel massimo torneo regionale ha fatto sì che la squadra di De Bellis si configurasse come uno dei team alla continua rincorsa del Campobasso prima e poi della Gioventù Calciodown e del Sesto Campano poi. Mister De Bellis si troverà ad affrontare al Comunale Lalife, squadra terzultima in classifica che viene dalla sconfitta rimediata lo scorso fine settimana contro il Pozzilli. E il morale dei campani non è dunque al massimo e probabilmente neanche quello degli altomolisani che invece hanno la colpa, se così si può dire, di aver regalato un pareggio alla buona Santeliana che partita a razzo ha rallentato e non poco la sua corsa. Massima concentrazione per i suoi la chiederà anche Mister Totaro. Al venditti infatti arriverà il Montenero che sta timidamente risalendo la china vincendo contro il Montaquila. Domani però il Gambatese è chiamato a rispondere con determinazione e voglia di vittoria all'avversario, almeno sulla carta sfavorito rispetto alla compagine Fortorina. Lo spettacolo sarà assicurato perché ben note sono le peculiarità agonistiche dei due tecnici Totaro e Lallopizzi, nonché quelle caratteriali che si impregnano bene sulla lettura di ogni partita. Un altro tecnico molto interessante che da poco si è prestato per la sua squadra in questo ruolo è Bernardo. Il Vasto Girardi sta rialzando lo sguardo e preziosa è stata in chiave morale la ritrovata vittoria contro il Roccaravindola. Delicato sarà l'incontro Alditella contro il Roseto che a quota 37 punti può vantare, rispetto all'avversario giallo celeste, un cammino certo più equilibrato. Proprio i pugliesi nello scorso weekend hanno perso contro i corregionali del calcio d'Auna, pertanto domani in Alto Molise un'unica cosa sarà certa, la fame di vittoria delle due squadre. La cliternina sul nuovo campo in erba naturale ospiterà la squadra sul podio d'argento, ovvero il calcio d'Auna. I punti che distaccano i due team sono abissali. Da un lato c'è la voglia dei padroni di casa di fare una buona prestazione, dall'altra l'instancabile voglia di rivalsa del calcio d'Auna inseguitrice ufficiale del campo basso. Tornando al nuovo campo della società basso molisana, l'inaugurazione ufficiale ci sarà il 19 aprile. Per l'occasione è stata organizzata un amichevole contro la Primavera del Lanciano. Torniamo alla provincia Pentra. Il Pozziglia, quota 21 punti, sfiderà il comprensoro Vairano a 19. Situazione molto delicata per entrambe le società che non vogliono mollare la presa sul campionato di eccellenza. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria contro la Liffe, mentre il Vairano è stato costretto a un turno di stop a causa del maltempo della scorsa settimana. A tal proposito ricordiamo che il recupero della gara contro il Venafro è stato fissato a martedì 1 aprile alle ore 16. Intanto l'appuntamento per domani per l'undicesima giornata del massimo torneo regionale è alle ore 15 su tutti i campi.